Siamo nella pista numero 10 direttissima che si sta svolgendo il Gran Premio Italia e abbiamo l'onore di avere come aprire pista il campione olimpionico Giuliano Razzoli. Eccolo che sta ascendendo, come vedete sta prontando le porte di Slalom in perfette condizioni, abbiamo una pista perfetta, siamo sempre qui sul cimone e stiamo seguendo la discesa di Giuliano Razzoli che ha onorato questa gara del Gran Premio Italia qui al cimone.